Ciao cari amiche e amici di YouTube, che la forza sia con voi! Da quale film è tratta questa frase? Chi lo sa lo scriva qui sotto. Inizio così perché in questo precedente video ho spiegato cosa è e perché è necessario sviluppare una qualità indispensabile, la forza interiore. Guardatelo, mi raccomando, vi descrivo la mia particolare prospettiva su questo argomento. Nel video di oggi voglio svelarvi il mio segreto per sintonizzarvi con la vostra forza interiore ogni volta che ne avete bisogno. Sono quattro strategie efficacissime, facili e applicabili da tutti. Come vi dicevo abbiamo maturato che la forza interiore è appoggiata su due fattori importantissimi. Il primo è mentale, ovvero pensare nel modo giusto, avere il giusto atteggiamento mentale. Ma il secondo fattore è fisico, perché la forza interiore dipende anche dalla salute del corpo. Ma sei sicura? Stiamo parlando di forza interiore, non di forza bruta. Non ci credete, vero? Troppo semplice? Eh sì, come fai a dirlo? Ve lo dico perché in circa 30 anni di professione, nel campo della salute di corpo, mente e sfera interiore, con queste strategie ho aiutato moltissime persone. E vi dico che agendo sul corpo e sulla salute aumenta anche la forza interiore, come un effetto collaterale positivo. Questo non vuol dire che chi sta male non può avere forza interiore, ma chi sta male sa quanta fatica in più gli costa tirare fuori la forza interiore. E per aiutare tutti voi amici ad avere più forza interiore, vi spiegherò come mettere in pratica quattro strategie nella vita di ogni giorno, ovvero come trascorrere il vostro tempo in modo da accrescere la forza interiore. 1. Trascorrete più tempo soli con voi stessi. Tutti abbiamo bisogno di rigenerarci. Rinfrescare i nostri pensieri ci rende più forti dentro. Rigenera la forza interiore. E come rigenerarsi in mezzo a tutto il rumore e a tante distrazioni? Trascorrete almeno 15 minuti al giorno in silenzio. Fate una pausa di silenzio intenzionale rigenerante. È il silenzio delle parole e del pensiero. Mi sembra un sogno, già mi ricarico solo a pensarci. Funziona subito, davvero. E se possibile ricavatevi anche una giornata al mese di silenzio. Niente internet, televisione, telefono. Magari da soli in mezzo alla natura. Mettetelo in calendario, fate un promemoria sulla scrivania. Parlatene con i vostri amici, così sarete più motivati a mantenere l'impegno. E magari li contagerete con una buona abitudine. E se vi chiedono qualcosa, fategli vedere questo video. Due, trascorrete più tempo con le persone giuste. Attenzione, frequentare persone negative, lamentose, ipercritiche e poco costruttive è dannoso perché riduce l'autostima e consuma tutta l'energia positiva. Se avete solo conoscenze negative, cambiate aria, cambiate giro. Non subite la negatività. Non lasciatevi trascinare nel lamento senza uscita. Vi stanno usando per rubarvi energia. Allora adesso cancello certi contatti dal telefono. Già, frequentate nuovi ambienti. Cercate persone positive e confrontatevi con loro. Così risolleverete la forza interiore. Insomma, date spazio a chi vi apprezza e condivide davvero i vostri valori. E adesso sto per consegnarvi le mie due strategie per accrescere la forza interiore aumentando la salute. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per tanti altri consigli sulla crescita interiore e la salute naturale, iscrivetevi al mio canale. Con un facile clic, così. E attivate le notifiche. Primo consiglio. Trascorrete più tempo dal naturopata. Fatevi consigliare dei rimedi naturali e degli integratori, soprattutto a base di antiossidanti, che danno alle cellule la forza di contrastare i radicali liberi e potenziano le difese immunitarie. E fatevi depurare per sentirvi più freschi e reattivi. Ma cosa c'entra la depurazione e il sistema immunitario con la forza interiore? Quando per il corpo la capacità di reagire è bassa perché si è intossicati o il sistema immunitario è basso, ci si sente deboli, svogliati, senza forza di reagire, vero? E si pensa di essere depressi. Ma non è così. Quando si è più puliti dentro e le difese sono alte, si è spontaneamente più forti, si ha più forza di reagire e si accede meglio alle proprie risorse interiori. Secondo consiglio. Trascorrete più tempo a letto. Ah, davvero? Dici che fa bene alla forza interiore? Beh, anche quello. Ma ne parlerò in un altro video. Io mi riferisco a letto come il luogo per dormire. Lo sapete che la scienza sempre di più raccomanda di dormire almeno otto ore al giorno. Se non dormiamo abbastanza accumuliamo stanchezza che si traduce in un senso di annebbiamento, mancanza di chiarezza, mancanza di forza, anche di forza interiore. Insomma, tempo meglio investito più salute naturale uguale più forza interiore. Ah, da oggi metto subito in pratica i tuoi quattro consigli. Vedrai il prossimo video come sarò forte interiormente. Benissimo! E voi? Volete diventare portatori sani di benessere naturale e forza interiore? Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Scrivete le vostre domande e i vostri commenti qui sotto. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! E te levo lei. Così? No. Ah, ma davvero! Soppa!